Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Ciao ragazzo Ciao Spartone E bentornati in questa nuova sfida Ah la sfida? Io ho un po' paura, ci ho chiesto di mettere 16 videocamere Questa sfida cosa vuol dire? No, la cosa bella è che nessuno di voi due sa cosa stiamo per andare a fare No esatto Questa qua raga Ragazzi Questa qua raga è una sfida particolare Perché cosa succederà? Praticamente io vi do un tema Che può essere sia magico, alterneremo magia o no Avrete 30 secondi per elencare quante più cose conoscete di quel tema, ok? Però aspetta, aspetta Che cazzo dovevo dire? La cosa bella è che tipo io ti dico Tu hai 30 secondi per dirmi quanti più animali conosci, no? Ok E tu quanti me ne diresti? Tu mi dici 12 Allora Hydro Lance dice 13 Mi sarebbe in grado di dire 13, no? Ok Quando tu pensi di non essere più alla sua altezza Dici bugiardo Cazzo di fumi Che gioco è? Ok, va bene Tu dici bugiardo in quel caso, no? E quindi cosa significa? Che Hydro deve provare a dire quei 13 nomi Se non ci riesce il punto è tuo Ok Ma è geniale Perché così possiamo cercare di superare il limite Perché tu invece è un bugiardo Mi piace, mi piace Ok, ok, ci sta Io farò conto dei 30 secondi Partiamo con una cosa facile Parto da Jack Io ti chiedo In 30 secondi Jack Sì Quanti nomi di persona maschile sapresti dirmi? Senza pensarsi Più o meno Vai, spara 25 25 25 in 30 secondi vecchio Ma in 30 secondi È una macchina vecchio bugiardo Eh Dio Lui ti ha creato molti Ok, ok Aspetta La rifaccio Ok Partiamo con Jack Io ti chiedo poi in caso tu rilanci Sì Jack in 30 secondi Sì Quanti nomi di persone maschili Ok Sapresti dirmi 12 13 14 15 Bugiardo Bugiardo Allora adesso io parto Tu dovrei elencare Maschili? 15 nomi Hai detto 15 no? 15 nomi maschili Sì Capiti Ricordati se lui Ne ripete qualcuno che aveva già detto Ok Io li conto 3 2 1 Via Sebastiano Manuel Jacopo Giacomo Riccardo Tommaso Oddio Jacopo Eh non l'ho già detto Richard Cazzo impossibili Detti così Mirko Marco Matteo Libero Giuseppe Francesco No Vito Vito sei Ah me ne ho c'è uno 30 secondi Questo non lo so No bro Era già passato No io pensavo di essere già la fine Bro Cazzo tu hai? Eh no E tu dice E fregarti Va bene La diamo buare questa Ok Comunque è bello che questo video c'entra totalmente La magia Aspetta Comunque è difficilissimo Perché pensi di saperne un botto Ma devi riprasonarci Ok raga Il primo giusto perché è la prima cosa Siamo al limite limite Diamo il primo punto ad Aide Ora la seconda la facciamo a tema magico Allora Aide Sì In 30 secondi Quanti nomi di giochi di magia Sopresti indicarmi Secondo te Di giochi? Sì di giochi Veloce non devi pensarci troppo Perché se no Oddio ci dovrei pensare Quindi dico 9 10 Non potete pensarsi troppo Perché se no pensate Il nome dei giochi 11 12 Bugiardo Ok Jack Al mio 3 30 secondi per indicare Quanti più giochi di magia conosci 3 2 1 Vai Massa invisibile Triumph Carta ambiziosa Carta ambiziosa Biddle trick Acqua e olio ACES production Sandwich Coincidenza Out of this world Follow the leader Dice Carta al numero Carta al numero Carta al numero Cognacross E basta Ci sei Ci sei 12 Però è difficile In 30 secondi Giusto Allora Torniamo di nuovo Non sulla magia Jack In 30 secondi Quanti colori Sapresti dirmi Vai In quanti 30 secondi Sempre Credo almeno 10 Non pensare ai diritti 11 12 Merda Tra rischi 13 14 Bugiardo Bugiardo Allora Jack Hai 30 secondi Al mio 3 1 2 3 Rosso Blu Giallo Verde Marrone Arancio Viola Grigio Bianco Beige Porpora Rosa Azzurro Turchese Magenta È una roccia Ci sta Ci sta Attenzione Pulito Questa era Jack ne sapeva 2 a 1 per Jack Ok 2 a 1 per Jack Bravo Jack Torniamo in ambito magico Ti ho sottovalutato Torniamo in ambito magico Allora Aid Quanti nomi di maghi Mi indicheresti In 30 secondi Oddio Ti dico 10 11 12 13 Catto 13 Non pensare 14 15 Rischi Dai Dai Sono tanti Non mi vengono Ti ha detto 15 Vai 15 Vecchio Vuol dire 1 ogni 2 secondi 16 Proviamo Bugiardo Bugiardo 16 Dai I più famosi 1 2 3 David Copperfield Riudini Dai Vernon Joan Tamaris Danny Daortis Chris Angel Dynamo Steven Brandage David Blaine Hyde Jack Nobile Non valgono Non valgono questi due Non valgono E beh bro Cazzo dimmelo Diego Allegri Gianfranco Preverino Tony Polli Aurelio Paviato Non so quanti siamo 14 Aurelio Paviato Teni dico un altro Harry Helius Ok Pulito No forse erano 16 Sì erano 16 Vai Vabbè Taccami su tui Bene Ne sapevi Ne sapevi 2 a 2 2 a 2 Torniamo a una domanda non magica Vediamo Jack quanti stati mi sapresti dire in 30 secondi Stati? Stati Sì Almeno 10 11 11 o 10? 11 12 13 Non pensare 14 Merda Non pensare sempre 15 Merda 16 bro Bugiardo Bugiardo 16 Anche se vuoi Al 3 hai i 30 secondi per dire 16 nomi di stati Ok vado Aspetta aspetta al 3 1 2 3 Norvegia Islanda Finlandia Regno Unito Danimarca Olanda Svizzera Spagna Portogallo Italia Germania Così mi manca Irak Iran Turkmenistan Cina Giappone Russia Sì hai spondato Hai spaccato Beh era facile alla fine 3 a 2 Se ti fai tutta l'Europa Ok 3 a 2 per AID Andiamo con la prossima Jack quanti Nomi di tecniche di magia Torniamo all'ambito magico Mi sapresti dire in 30 secondi Mi apre 15 Rilanci Io rilancio perché tu sei il possessore del principale questione di magia online Quindi adesso ti dico 17 Però se hai le pal 18 Bugiardo Bugiardo aspetta Hai il mio 3 1 2 Il possessore del principale corso di magia Merda Attenzione Bravo 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 3 pari Adesso c'è lo sparezzo L'argomentone finale Eccolè Figa Adesso 15 Però 17 17 Ma iabbro Dai dai Però aspetta C'è una cosa che non hai detto È importante Se io tipo adesso dico 25 Lui mi dice bugiardo E io sbaglio Cosa succede? Perdi E il punto va lui Sì È 18 Bugiardo Bugiardo vai Io non ne so così tanto 2 3 Anima Surry Stepney Vegas Me contro te La sabbi gamer Zano Blur Giambodrillo Luis Che ne so Marco Montemagno Leon C'è uno che si chiama Leon Power Power Dai 5 secondi No no ho vinto Jack Mi sa Sei a 13 Non ci siamo finiti Olè È impossibile Jack a casa sua La porta a casa È impossibile Prova è impossibile Io non ne so così tanto Jack a casa Io ne so Mi ho tragiato tutti gli human safari Esatto Mi stavano venendo in mente Quelli che facevano viaggi Tipo Sì 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 Marcella Scan Però raga Comunque raga Ha vinto Jack a casa sua Sull'ambito di YouTube Lo sapeva Che non poteva permettersi Un certo numero di YouTube Non era facile Però dovete essere d'accordo Perché vi viene da dire Di più Più numeri E poi non ti vengono Sì è difficile Cioè ad esempio i nomi Io pensavo fosse banale Io ho provato a fare a casa I nomi non mi venivano Sì perché poi non ti ricordi Cosa hai già detto Tipo Boh ma tu sei un caso a parte Sì tu sei un amolo Quindi Jack ha sfondato Hyde Magari ci sarà una rivista più avanti Ha sfondato Cioè ha sfondato Ha perso di uno Ha perso di uno Grazie per aver visto Questo video Completamente inutile Eh beh se lo diceva solo dai A me è piaciuto però Sì Questo è figo Spero che vi sia piaciuto Se è così Lasciate un commento Fatemelo sapere Torneranno altre sfide simili Spero che Sì 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 Volentieri La loro presenza sul mio canale Sia di vostro gradimento Esatto E niente Bella rega Ciao ragazzi Ciao ciao Cazzo è bellissima Bellissima copertina Mi piace Ah è vero Fattate voi due che vi guardate E ci baciamo Tipo sfida Io sto qui così tipo No voi due Fate più un'unchi qua Così Qui qua Vai Così più utile